Amici di Fight4Yours, siamo qui in compagnia di Alessandro Giordano, grande vittoria in un debut in italiano con Emanuele Zaccaria Era un match attesissimo da tutti i fan e poi anche con l'hype del pochissimo preavviso è stata una battaglia, però è stata una battaglia che ti sei portato a casa, come ti senti? Mi sento bene per questa vittoria, volevo metterlo KO, dico la verità, non sono riuscito a muovermi come volevo perché un piccolo infortunio durante il match non mi ha permesso di muovermi come volevo quindi ho cercato di mettere i miei colpi nonostante non riuscivo a muovermi come volevo però c'è comunque stato un match sentito, lui era un avversario duro, ha accettato il match con tre giorni di preavviso ma credo che già era in preparazione per qualche altro match o comunque aveva avuto qualche notizia e niente, ci hanno dato una split decision, magari un arbitro non ci vedeva bene, non lo so però penso che di essere abbastanza soddisfatto di questa vittoria Ecco io in combinazione ero a riprenderti dietro la gabbia mentre ho visto il verdetto ho visto proprio che quando hai sentito che c'era un cartellino a suo favore hai come abbassato le braccia come per dire ma davvero hai avuto un attimo di timore in quel momento? No, non ho abbassato le braccia per un attimo di timore ho abbassato le braccia per dire vorrebbero quasi fare capisci, mi vorrebbero quasi mettercelo a quel posto ho abbassato un attimo le braccia per dire dai, siamo seri? perché io mi sentivo di aver vinto il match mi sentivo sicuro al 100% di aver vinto il match quindi ho fatto un attimo così per dire dai veramente siete seri quando fate queste cose però vabbè, non fa niente il terzo giudice ha detto Giordano quindi come avevo sentito è così andata adesso come tempistiche combaccia perfettamente la tua vittoria con appunto il match valevole per il titolo nella tua categoria anche se questo è stato un catch rate visto anche i vari cammini avversari in realtà è il poco preavviso pensi che anche con questo infortunio di cui ci hai parlato possano combaciare magari le tempistiche per far quadrare magari un match, una chance titolata e visto che appunto siete molto vicini con il match titolato allora sicuramente ho un piccolo infortunio che spero che non sia niente di eccezionalmente grave penso che un paio di mesi riesco a stare bene quindi considerando che fra due settimane fanno il titolo se a marzo vogliono combattere io ci sono marzo-aprile sono pronto, sono qui mi preparo e andiamo a portare questo titolo a Napoli marzo-aprile di solito è un po' la tempistica in cui anche la UFC va in game in Europa con card inglesi molto spesso in generale prepararsi per quel periodo lì per un match potrebbe sempre tornare comodo no? sì, infatti ci sono le due opzioni ho il titolo o se l'UFC chiama mi dispiace per il titolo ma c'è sempre la corsa preferenziale quindi andiamo in UFC se l'UFC chiama io sono pronto I'm ready Dana, I'm ready send me the location sei pronto e l'hai dimostrato ancora un altro messaggio e poi performance una più bella dell'altra una dietro l'altro adesso secondo te in questo momento la tua sensazione qual è? potrebbe arrivare effettivamente già adesso senza necessariamente il match di trovato la chiamata o credi che dovrei fare quest'ultimo statement portandoti a casa anche la cintura? io penso che potrebbe arrivare la chiamata per l'UFC o per un contender series a luglio o per... no, il tuffo però non so credo che una chiamata per l'UFC che sia una short notice un contratto o qualsiasi cosa o un contender series possa arrivare nel caso in cui non dovessi arrivare te l'ho detto sono pronto per combattere per il titolo però penso che dopo aver battuto il padrone di casa ma è stato messo K1 ma è stato sottomesso con un K1 spettacolare dopo aver battuto il primo in Italia dopo essermi riconfermato primo in Italia contro uno fra i primi tra i troppi cinque in Italia cazzo se non mi chiamiamo quando mi volete chiamare volete far buttare il sangue? e come ultima domanda a chi dedichi questo match? una dedica speciale? una dedica speciale a tutte le persone che mi stanno vicino a mio coach Vittorio e a tutte le persone che non ci sono più che sono sempre con noi e vivono nei nostri cuori e si allenano con noi ogni giorno che sono una motivazione in più per arrivare sempre più in alto grazie mille davvero e congratulazioni grazie a te Simone amici di Fight4Yours siamo qui in compagnia del protagonista assoluto di K1 179 vincitore del main event Stefano Paternò Stefano innanzitutto congratulazioni grazie mille per il tuo tempo e veramente è stata una grande vittoria anche per come è arrivata quali sono le emozioni che senti in questo momento anche con tutto l'avvicinamento tutto l'avvicinamento tutta la pressione che c'era nel combattere a Roma ciao a tutti amici di Fight4Yours allora le emozioni che sento intanto sento di aver vinto a prescindere dal match ma per il fatto che ho avuto così tanto affetto dal pubblico e dalle persone che mi seguono che già quella di per sé è una vittoria poi avere tutti i miei amici che sono venuti a vedermi è una cosa fantastica perché spesso non hanno avuto la possibilità tra combattimenti a Manchester, Prague, eccetera non c'era questa possibilità quindi già di per sé mi sento molto fortunato in questa serata poi in più abbiamo coronata con una bella vittoria un altro capo a raggiungere alla collezione quindi sono felice al 200% nella settimana del match ci siamo anche sentiti abbiamo parlato in live della tua mentalità che è una mentalità molto centrata molto concentrata fissata sull'obiettivo ma anche molto matura e responsabile sotto ogni punto di vista come si acquisisce questa mentalità? allora non ci sono scorciatoie si acquisisce combattendo non c'è niente da fare le emozioni che ti dà la gabbia che si chiude tu e l'avversario e l'arbitro e nessun altro dentro la gabbia non le puoi ricreare cerchi di ricrearle facendo sparring in allenamento o col maestro che ti mette un tipo di pressione ma ricreare quell'emozione lo puoi fare solo combattendo quindi non ci sono scorciatoie bisogna combattere bisogna affrontare match difficili con avversari che ti vogliono mettere K.O ti vogliono sottomettere e solo così vai a forgiare la tua mentalità poi dal punto di vista della serietà e della professionalità fuori dal match quella la acquisisci quando capisci che questo è un lavoro quindi è una passione è un divertimento estremo però è anche un lavoro quindi bisogna essere attenti ai passi che si fanno cercare sempre di fare il passo migliore e chiaramente in base agli obiettivi che ognuno ha rimanendo sulla questione di mentalità sappiamo tutti che il tuo obiettivo è la UFC ed è sempre stato la UFC e adesso sarebbe anche ora della chiamata ovviamente passa anche magari dalla possibilità a seconda di come possa arrivare questa chiamata qui dall'essere sempre pronto dal tenersi in allenamento che è un qualcosa di difficile da fare anche durante tutto l'anno come pensi di affrontare adesso ovviamente questi giorni magari un po' per festeggiare riprenderti ma in generale la preparazione per un camp che non sai in quando magari culminerà né in che promotion necessariamente però per stare sempre pronto devo mi trovo in disaccordo con una cosa che hai detto cioè che è difficile non è vero non è difficile tutte le persone si alzano la mattina vanno a lavorare il fighter si alza la mattina e deve tenersi pronto per i combattimenti non è che ti alleni solo quando ti arriva al contratto e hai due mesi di preparazione anche perché tante volte arriva la short notice quindi tu devi essere pronto in ogni momento e deve essere il tuo stile di vita quindi sempre in un peso che ti permette di combattere se ti dicono tra due settimane c'è un match sempre in una condizione atletica e tecnica che ti permette di tenerla lama affilata e essere sempre pronto quindi non è una cosa che io reputo difficile ma è una cosa che io reputo il minimo che un fighter deve fare e questo mi ha consentito di fare gli ultimi degli ultimi quattro match due in short notice anzi try in short notice quindi questo è il tipo di mindset che poi secondo me ogni fighter dovrebbe avere messaggio fantastico anche a potenziali aspiranti fighter giovani a proposito di messaggio manda il tuo messaggio ad Anna White manda il tuo messaggio alla UFC per farti prendere adesso perché è il momento allora c'è tutti gli altri fighter che urlano dicono sono più forte prendimi io lo dico in maniera professionale pacata Donna White è un uomo da fare quindi Donna cosa vogliamo fare vogliamo dare una possibilità a questo fighter italiano di combattere l'UFC